Prima e grosse novità sull'operazione Expol che ha portato a vittoria agli arresti domiciliari 6 persone accusate di voto di scambio, il GIP Vincenzo Cascino, lo stesso che aveva firmato le ordinanze, ha rimesso in libertà l'ex sindaco Giuseppe Nicosia, in libertà anche venerando Lauretta, mentre arrestano ai domiciliari gli altri 4 indacati, ossia Fabio Nicosia, Gian Bassista Puccia, Raffaele Di Pietra e Raffaele Giunta. Nicosia avrebbe confinto il giudice di essere rimasto vittima di un clamoroso equivoco, così come ribadito dal suo difensore legale Maurizio Catalano, a dire del quale c'è da attendersi adesso un proscioglimento anche per il fratello Fabio, oltre che per Nadia Fiorellini, ex assessore dipendente comunale che ha subito un provvedimento di sospensione dal servizio per farso ideologico in atto pubblico. Altra novità, la nomina decisa dal prefetto di inviare una commissione ispettiva a Palazzo Iacono, l'obiettivo accertare infiltrazioni o condizionamenti tipo mafioso che abbano determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale a sollecitare l'invio della commissione, era stato come noto il sindaco Muscato affinché venga fatta chiarezza su una vicenda che ha scosso e non poco l'opinione pubblica vittoriesi.